Top 10, girone di ritorno, una tripla assassina, come la gradisce Tyrus the Virus. Ma chi esce dai blocchi, segna quella tripla che rimette in fiducia tutta la squadra. Demony si nasce e modestamente lui lo nacque, Darren Washington. Vitali e Cusini insegnano, Washington e Dragovic imparano in fretta. Le gioie della vita, Rachel McAdams, il cioccolato e Deron Washington in campo aperto. Lo fa! Ennesima giocata spettacolare! Ivan Drago is back, difesa di Cantù, dispiezzo in due. Il peggior posto dove andare? Il pitturato, quando c'è Paul B. Liga, The Black Spider. Che cancella! Resetta! Formata! Impressionante! Quando mancano 10 secondi alla fine di una partita, si può fare meglio di Django Tonino Turner. Un uomo chiamato Flash, Michael Starks, all'esordio. La decide lui, punto e a capo. Vado a sinistra, vado dove mi pare. Nick The Quick, cazzolato! Fa tutto cazzolato! Fa tutto cazzolato! Fa tutto cazzolato! La dipla! Di cazzolato! Da centrocampo bad way! Si vai su Planet Town! La manoli ha 5 giocatori ormai! Sono tutti fuori per 5 palli! C'è l'ultimo volo della Air Louisiana, con l'aiuto dei suoi compagni. Darren Washington, Spaceman, un uomo nello spazio. E' tutto gente, grazie davvero!